siamo con gustavo vitali la presentazione di un allora ogni volta un artista quando scrive un libro si parla di ultima fatica questa caso parliamo della tua prima fatica un lavoro che sicuramente bello da leggere e anche fruibile ma guarda sicuramente fatica è la parola giusta perché mi è costato qualcosa come nei otto anni meno un mese di lavoro e questo per un per le scelte che tutto sommato poi ho fatto io diciamo che è causa del suo mal pianca se stesso il perché io ho scelto come argomento siccome sono un grosso appassionato di storia e anche un piccola parte anche di letteratura gialla ho scelto come argomento un di ambientare questo giallo che in venezia nel 1605 con personaggi realmente vissuti ai tempi cioè la storia la trama del giallo è tutta inventata però i personaggi principali che si incontrano durante la trama sono realmente vissuti a quei tempi è chiaro che a questo punto dovuto fare delle ricerche a partire dal protagonista quindi archivio di stato di venezia biblioteca marciana e un mezzo metro cubo di libri che ho sulla scrivania che sono dovuto leggere per contestualizzare esattamente il racconto in quell'anno e diciamo che il lavoro mi ha soddisfatto finora ho ricevuto tutte recensioni e soprattutto opinioni dei lettori tengo di più alle opinioni dei lettori che non recensioni dico francamente e opinioni dei lettori tutte favorevole salvo però devo essere onesto che un paio di amici hanno trovato difficoltà perché non sono appassionati di storie cioè il fatto di aver contestualizzato questo questo racconto giallo in un periodo storico mi ha obbligato ovviamente a spiegare che cosa succedeva in quel periodo storico sono degli interventi brevissimi qualche volta si risolvono in poche righe sono interventi che non staccano il lettore dal trama molto spesso sono gli stessi protagonisti che le raccontano e però dall'altra parte moltissimi abbia hanno detto che l'equilibrio tra trama gialla quindi trama thriller con suspanse tutto quanto e interventi storici sono ben equilibrato in parole povere se io durante il libro per esempio parlo del tribunale della quarantia devo spiegare al lettore che cos'è la quarantia perché non è detto che il cuore lo santo per cui ci sono io mi sono ovviamente orientato sulle curiosità sui costumi non ho fatto interventi tipo la battaglia tal dei tali o in generale picco pallini ma ho appinto a piele mani a quelle che sono le curiosità come si svolgeva la vita nella repubblica serenissima tra rinascimento e parrocco ecco questo è il il un po il come si chiama racconta la contestualizzazione del racconto cosa ti posso dire anche che diciamo è un libro di 520 pagine circa ci sono c'è una bibliografia infinita sono cinque pagine di testi e non li ho citati neanche tutti il non ti so dire come sono arrivato poi a questa decisione cioè la passione per la storia l'ho sempre avuta in particolare negli ultimi anni avevo letto libri sulla storia di venezia dell'antica repubblica serenissima però come si è arrivato poi a decidere questo non lo so posso raccontare un episodio che quando mi sono rivolto al direttore di una biblioteca di venezia la schiava marciana famosissima chiedendo se avevano dei testi dei manoscritti riguardo al periodo fino rinascimento inizio barocco mi hanno detto ma risposto subito cambi cambi periodo perché sul 600 hanno pochissimo materiale sul 700 invece stra abbondante io comunque ho insistito ho trovato presso l'archivio di stato un documento un verbale firmato dai signori di notte che era una magistratura dell'antica repubblica serenissima che è firmato da un francesco barbarigo per cui io ho creato il protagonista diciamo che sono arrivato quasi non dico per caso ma quasi diciamo per istruzione degli addetti al periodo di stato a questo a questa soluzione peraltro il libro il protagonista io mi sono voluto staccare dall'investigatore ogni scelte che sa tutto capisce tutto spiega tutto e ho creato un personaggio che all'inizio non è del tutto positivo è un pasticcione che pretende di risolvere il giallo che inizia esattamente il 16 aprile 1605 quando viene trovato morto il nobile decaduto che si chiama nicolo ruolo realmente vissuto sarà morto di vecchiaia immagino per malattia io lo faccio morire assassinato e questo investigatore che si chiama francesco barbarigo è tutto sommato io mi sono voluto staccare da questo prototipo dei dei montalbano dei poachie dei migrei che sanno tutto capiscono tutto risolvono tutto e ho creato un personaggio che al contrario naviga casaccio cerca di fare qualcosa ma non è capace in realtà finché non incontrerà poi un alteretto il suo comprimario che lo indirizzerà per la strada giusta naturalmente è un personaggio è un patrizio perché le magistrature che erano i ruoli dell'apparato dell'organigramma della serenissima erano coperte sempre da patrizi cioè nobili che chiaramente ha una certa dose anche di spocchia un po rogantello pretende di saperla lunga crede che tutto gli sia dovuto perché lui è figlio di eccetera eccetera ed invece durante il racconto si accorgerà che la vita non è questa e arriverà a un certo punto anche a sottinare a risorgere proprio come persona ho tentato anche di entrare un po nella sua psicologia perché è una persona che aveva impianti per passato dei dolori che lo che lo tormentano di tanto in tanto è molto balzano cambia spesso umore cambia decisioni da un momento all'altro vorrebbe far vedere vorrebbe lasciarsi intendere come un uomo sicuro di se stesso uomo che sa il fatto suo in pratica invece salta di palo in frasca è un giorno sul meno l'altro sul finché appunto capirà che ci sono altri che ne sanno più di lui si accoderà a questi altri e arriverà a risolvere il mistero che nel frattempo si è arricchito di altri delitti ci sono agguati ci sono non so traditori eccetera eccetera ci sono tutti praticamente gli elementi del giallo classico però attribuiti a personaggi che io mi sono andato a pescare uno per uno realmente esistiti e quindi mi sono dovuto adeguare ai tempi storici in cui loro sono vissuti ai ruoli che hanno ricoperto dove erano cose facevano eccetera eccetera questo è un po' il sudo del anzi più di un sudo ho fatto ovviamente un mezzo comizio di quello che errore romanzo sì ma abbiamo visto che in realtà alla fine hai dato l'immagine del colui che andrà a fare le indagini più più che un megre un l'ispettore Clouseau perché in realtà sembra più un Clouseau inizialmente sembra proprio il Clouseau della situazione che in modo goffo ha la soluzione ma in realtà deve soltanto capire dove è la soluzione diciamo che il paragone ci sta tutto quindi il paragone ci sta tutto salvo il superiore di Clouseau che viene colto lì da da cos'era da da collia esatto eccetera per il resto il il paragone più che azzeccato anzi diciamo che nella sua magistratura perché questi signori di notte poi alla fine sono sei magistrati ce n'è uno che svolge un po' la funzione paternalistica del del vecchio che cerca di accudire di distruire di instradare il giovane ma probabilmente questo qua non si dà per il peso perché preso dalla propria spocchia è convinto di cavarsela da solo ma domanda ma come mai spassi cioè prende tu che ti occupi spesso voglio dire di sport soprattutto di volo ambientato qualsiasi cosa che riguarda il volo e poi dopo mi passi a un omicidio da un libro prende parliamo di omicidi però a una venezia dove prende il volo in quel caso non parliamo di volo ed è lì se sei saltato prende da saltato dal paracadute e si è atterrato e si è atterrato sulla pista dove si trova a venezia per fare un omicidio ma guarda è abbastanza facile da spiegare sono passione che uno ha nella vita che cerca di coltivare io ho sempre avuto la passione per il volo libero in parapendio e deltaplano io volo in parapendio non in deltaplano comunque e ho sempre fatto da ufficio stampa sarà vent'anni che faccio da ufficio stampa per la fible che è l'associazione nazionale italiana del volo libero volo libero è il volo in parapendio cioè vuol dire senza volo per cui ho sempre avuto questa passione che è una passione sportiva e dall'altra parte però ho sempre già io ti dico francamente conto sulle dita di una mano i romanzi che io ho letto io sempre ho letto libri di storia cioè se devo scegliere tra che mi so l'addio alle armi che ne so l'amante di vedi cetterli io mi vado a scegliere il libro di storia mi vado a scegliere che ne so piuttosto i miserabili di 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 duma o che ne so io preferisco proprio il libro di testo di storia eccetera poi devi pensare che nel frattempo ai libri si sono affiancate trasmissioni televisive dvd non so non so io per esempio seguo spesso rai storia praticamente quotidianamente seguo rai storia dove ci sono più di studiosi come ne so alessandro martelli e sono eccetera che ti spiegano io ho sempre avuto questa passione per la storia e un po però anche per i gialli perché per esempio non so montalbano me lo sono seguito quasi tutto qualche giallo di megre me lo sono letto rexed out ai tempi che ci fa giusto un suo libro fa sulla scrivania il restauro eccetera così perché però è diciamo in proporzione 1 a 10 cioè se io leggo 10 libri 9 sono di storia e quindi sono delle passioni che ti vengono a un certo punto coniugando queste passioni in questo caso alla pendio escluso coniugando queste passioni e soprattutto ho sempre avuto la passione per la scrittura a me è sempre piaciuto scrivere quindi io il lavoro che faccio per la fib dei comunicati stampa per gli stessi che tu ricevi e che rilanci poi nei vari siti eccetera a me non è un lavoro che mi pesa tutt'altro è quasi piacevole se vogliamo quindi questa passione eccetera ho coniugato l'una e l'altra queste tre passioni scrivere storia e thriller mettendoli insieme naturalmente non potevo a questo punto scrivere un giallo ambientato a mercamo oggi dovevo per porta andarmi a prendere qualcosa nel passato e siccome negli ultimi anni ho seguito molto letto sulla repubblica di venezia ho scelto questo invece la copertina abbiamo visto che è molto semplice con questa scritta come nasce l'idea di questa copertina di questo del libro del libro ho fatto tutto io copertina allora lo sfondo che tu vedi della copertina non è altro che il famoso documento e la foto del famoso documento che ho trovato all'archivio di stato e secondo il quale nell'agosto del 1605 un magistrato che si chiamava francesco barbarico era vivente perché firmava vivente perché firmava i verbali poi di questo francesco barbarico io non ho trovato altre notizie cioè se tu guardi non so bibliografia degli italiani puoi andare a leggere tizzozzi preto chi ti pare a te però di questo francesco barbarico non se ne parla assolutamente più allora io cosa ho fatto mi sono fatto dare la fotografia di questo documento che ho poi un po manomesso per creare una copertina il signore di notte il titolo è tramizzato da una spada quella non è altro che una spada da lato del 1595 di seguite di più o meno una decina d'anni prima quindi sicuramente utilizzata ancora i primi del seicento che mi ha fornito un certo fulvio dal team che è un riproduttore di portenone un paese in provincia di portenone che è un riproduttore di armi antiche e mi ha mandato ad alta definizione la foto di questa spada che io penso che si è prestato gentilmente ad aiutarmi per creare questa copertina e io quindi rendo la spada da il titolo del libro e lo sport e lo sfondo che hai visto e ho creato la copertina del libro ho deciso per una copertina semplice una copertina senza stronzoli e che evitasse la solita cartolina della venezia del che ne sono delle del tintoretto o del tiziano insomma cioè ho cercato di 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 distrarmi un po perché oggi tutti i libri hanno immagini hanno fotografie immagini ho cercato di levarli un po da questo un po come ho fatto con l'investigatore che mi sono rilevato dallo stereotipo odierno dall'investigatore dei libri di oggi con la copertina si dimmi no io concludendo primo partendo da chi dedichi questo libro perché mette si fanno sempre delle dediche iniziali e soprattutto dove troviamo questo libro dunque allora dediche non ne troverai non è dedicato a nessuno lo dedico di volta in volta ai lettori che me lo chiedono quindi ogni ogni lettore che me lo chiede ovviamente avrà una sua dedica e per il momento è stato pubblicato su amazon sia in ebook che cartaceo su covo dove c'è solo la versione ebook e su you can print che un'altra piattaforma tipo amazon dove c'è solo la versione cartacea dove però è stata cambiata la carta carta ocra che dicono favorisca un po meglio la lettura benissimo allora tra poco si tra poco l'avrò anche disponibile in vendita personalmente non so ancora perché mi devo un po organizzare perché ci sono anche questioni di codici sdm ci sono questioni di di fiscali anche perché la fiscalità in italia non manca mai e di conseguenza una volta risolto quello probabilmente forse non lo tutti poi praticano internet eccetera c'è da dire che poi queste piattaforme distribuiscono il libro ad altre piattaforme per esempio io l'ho visto nella libreria per crinelli nella montadori viene perché avete distribuito un po dappertutto io mi occupo di promuoverlo sostanzialmente adesso è che era forse la cosa più difficile ti ringrazio pietro soprattutto ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare di tollerare la mia logorrea proprio sulle cose che mi appassionano non finisco mai di parlare spesso finisco anche quello stancato le persone grazie a te pietro